Ciao, oggi vi proponiamo il fascia cappello dell'elfo di Babbo Natale, un simpatico accessorio per il capo dei vostri bimbi. Semplice, simpatico, veloce e divertente. Tutte le nostre schede sono scaricabili dai nostri social gratuitamente. Su dai, iniziamo. Dopo aver colorato, ritagliamo tutte le parti, per poi incollare da prima la fascia, poi la campanella, i pompon. Poi uniamo le due strisce e via, giriamo il cappello e uniamo la fascia al retro. Ed ecco fatto il copricapo. Iscriviti ai nostri canali, ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok. Si non perdi le prossime novità!